Un divertente e divertito Biagio Izzo ha incantato la gremita platea del teatro Tebbe di Luzzi. In una tappa calabrese veramente coinvolgente e molto divertente, l'artista napoletano, famoso per i suoi film e per aver accompagnato tanti cabarettisti in Italia, ha scaldato così il pubblico della Tebbe Cratense con una voce calda e suodente abbinata a dei ritmi frenetici e coinvolgenti. Un po' da tutta la Calabria sono arrivati i suoi fan, che hanno approfittato anche della serata non troppa posa, per concedersi una bella serata di puro divertimento. L'artista è stato accompagnato dalla band Swing e accolto dall'amministrazione comunale con l'assessore Camillo Borchetta e il sindaco Mavrero tedesco e in due seasti per aver portato a Luzzi un artista così affermato. L'estate luzzese intanto riparte già da domani sera con la presentazione della Luzzese in piazza al suo primo e storico campionato di eccellenza. Intanto eccovi un anticipo delle interviste che saranno trasmesse integralmente dopo questo TG. Stefano dei Sing Swing, un'altra è stata in giro per la Calabria. Questa sera vi toccherà assistere e accompagnare un artista come Biagio Izzo. Sicuramente ne siamo onoratissimi ovviamente. Per noi è un privilegio poter prendere parte a questa serata, dove avremo l'occasione di poter sia fare da spalla un grande artista conosciuto a livello nazionale, sia avere la possibilità di poter proporre la nostra musica ad una platea così importante come quella di Luzzi che tanto bene ci vuole. Allora, Biagio Izzo, un grande artista del Sud che viene qui per la prima volta a Luzzi, tanto cinema, tanti film, tanti spettacoli in giro per l'Italia e una piazza come quella appunto di Luzzi che è pronta ad applaudirla. Me lo auguro, è la prima volta che vengo, sono curioso di conoscere e di familiarizzare con questo pubblico e mi trovo in un bel anfiteatro, molto bello, complimenti perché è una struttura nuova e che per noi artisti queste sono cose importanti perché ci danno la possibilità per esprimerci e la possibilità di lavorare. Spero che ci sia tanta gente, passare una bella serata all'insegna di divertimento, staccare un po' la spina e farci quattro risate. Un pronostico sul Napoli lo vogliamo dare? Sul Napoli? Vinceremo Scudetti, chissà. Mamma mia, speriamo. Perfetto, la rimandiamo poi a maggio questa. Eh, bravo. L'assessore Camillo Borchetto, una serata, una delle tante che l'amministrazione comunale offre ai cittadini di Luzzi, una serata con Biagio Izzo, performer napoletano di gran talento, una serata dove l'anviteatro, qui pian pianino, si sta riempendo un anviteatro nuovo e adatto anche alle esigenze di un pubblico variegato. Eh, è vero, il nostro anfiteatro è di nuova costruzione, anzi teatro all'aperto, ci tengo a precisare, che ospiterà quest'anno una serie di iniziative che l'amministrazione comunale, capitanata dal sindaco dottor Manfredo Tedesco, da me che sono assessore allo spettacolo, dal consigliere comunale Massimo Molinaro, che è anche la delega allo spettacolo e quindi mi dà una mano nella realizzazione di questi eventi. Sindaco Manfredo Tedesco, una serata che già dai suoi esordi sembra volgere per il meglio, un grande artista come Biagio Izzo, qui nell'anviteatro, si sta preparando per offrire alla cittadinanza un grande evento, un'estate luzzese che finora veramente sembra soddisfare chi veramente ama lo spettacolo, in questa città e anche oltre. Allora, intanto, vabbè, grazie di essere voi come RTT qui presenti. Biagio Izzo lo volevamo, lo volevamo un pochino tutti, lo voleva la cittadinanza e dopo tanti anni un artista, diciamo, divertente, comico, importante, che ha fatto tanti film, si presenta qui, proprio nello stesso Teatro all'Aperto. Adesso questo Teatro all'Aperto si chiamerà Teatro Tebbe, proprio così come...